Allenamento completo per tonificare gambe e glutei con cardio, lavoro muscolare intenso, esercizi in piedi e a terra sul tappetino. Iniziamo! Ok, iniziamo subito con lo step touch, spostamento laterale a destra e a sinistra. Iniziamo ad attivare tutto il corpo, facciamo un bel riscaldamento iniziale, inspiro col naso e ispiro con la bocca. 3, 2, 1 e cambio! Corsa sul posto, piccola corsettina sul posto, aumentiamo piano piano il ritmo, scaldiamo bene tutto il corpo prima di iniziare questo super workout. Esercizio successivo, slancio gamba in avanti alternato. 5, 4, 3, 2, 1, cambio! Vado con lo slancio in avanti, alterno la gamba destra e la gamba sinistra, salgo e tocco la punta, salgo e tocco la punta. Esercizio successivo, spostamento laterale, mano al piede opposto. 5, 4, 3, 2, 1, cambio! Vado con lo spostamento, laterale, mano al piede opposto, scendo piano tocco la punta, scendo piano tocco la punta, vai! Scaldiamo tutta la parte alta, tutta la parte bassa, respiro! Esercizio successivo, circonduzione delle braccia. 3, 2, 1, cambio! Circonduzione delle braccia, un movimento ampio, le circonduzioni delle braccia sono in avanti, testa dritta, respiro! Scaldiamo bene tutta la parte alta, le spalle, le braccia. Ancora 5, 4, 3, 2, 1, cambio! Sempre circonduzione delle braccia, ma il movimento è all'indietro. Piano piano, movimento ampio, scaldiamo bene le spalle, le braccia. Ancora 10 secondi e cambiamo in calciata saltellata, respiro! Testa dritta, 4, 3, 2, 1, cambiamo! Calciata saltellata, respiro! 15 secondi ancora! Ancora 10 secondi, esercizio successivo! Skip incrociato più gomito al ginocchio! 5, 4, 3, 2, 1, vado con lo skip incrociato, il gomito ginocchio opposto, respiro! Testa dritta, salgo bene con il ginocchio, esercizio successivo, pugno più ginocchio su! 5, 4, 3, 2, 1, cambio! Ginocchio su destro e pugno sinistro, vai! Sincronizza il movimento, il ginocchio su al destro e il pugno al sinistro! Respirazione, sincronizzo bene entrambi i movimenti, quello del ginocchio e del pugno, vai! Ginocchio su destro e pugno sinistro! Non ti fermare! Ancora 10 secondi! 5, 4, 3, 2, 1, cambio! Pugno incrociato, pugno incrociato a destra e sinistra, addome forte, lavoro anche sulle gambe, sposto il piede e pugno! Sposto il piede e pugno, vai! Ancora 3, 2, 1, torniamo su pugno e ginocchio su! Ora il ginocchio su è il sinistro e pugno col braccio destro, vai! Separa bene i due movimenti, ginocchio su sinistro e pugno con il braccio destro! Mantengo la respirazione, non mi fermo, salgo bene con il ginocchio sinistro e vado con il pugno destro! Pam, pam! Ancora 10 secondi, pam, vai! Esercizio successivo, pugno incrociato! 5, 4, 3, 2, 1, cambio! Vai col pugno incrociato, addome forte, va di centro in avanti, lavoro sempre sulle gambe, spostamento delle gambe e pugno! 5, 4, 3, 2, 1, pugno frontale più calciata, calciata sinistra e pugno destro! E viceversa vai, pam, pam, respiro, una calciata sinistra e un pugno destro! E viceversa, respirazione, sincronizzo bene movimento braccia e gambe! Ancora 15 secondi, non ti fermare, respiro, calciata sinistra e pugno destro! E viceversa, esercizio successivo, solo calciata ai glutei! 5, 4, 3, 2, 1, calciata ai glutei, vai! Talone ai glutei, lavoro sulle braccia, respiro, passiamo, slancio in avanti più ginocchio su, tra 3, 2, 1, vai! Slancio in avanti e ginocchio su, lavoriamo solo con la gamba destra, attivo anche le braccia nel movimento, sincronizzo, cerco di coordinarmi al massimo e separo bene i movimenti, ginocchio, slancio, ginocchio e slancio! Vai, testa dritta, respiro, ancora, non ti fermare, tocco la punta, ginocchio su, 5, 4, 3, 2, 1, Ginocchio su, solo, sempre sulla gamba destra, lavoriamo tutto da una parte, salgo e tocco, salgo e tocco, 5, 4, 3, 2, 1, 1, slancio in avanti più ginocchio su, passiamo alla sinistra, vai, solo la gamba sinistra, tocco dietro e ginocchio su e salgo e tocco la punta, salgo e tocco la punta, vai, ginocchio su, slancio, ginocchio su, slancio, sincronizzo il movimento con le braccia, testa in avanti, movimento pulito, ancora 10 secondi, vai, 5, 4, 3, 2, 1 e cambio, sempre sulla sinistra, ma solo ginocchio su, vai, lavoro sulle braccia, la gamba che non lavora leggermente piegata, respiro, salgo bene col ginocchio e torno, salgo e torno, 3, 2, 1, camminata laterale su mezzo squat, vai sulla camminata laterale e attivo mezzo squat, senza scendere troppo, vai, faccio lavorare le braccia, testa dritta, respiro, 2 passi laterali su mezzo squat, 2 passi laterali su mezzo squat, a destra e a sinistra, esercizio successivo, step touch, ancora, 5, 4, 3, 2, 1 e cambio, step touch, mi sposto a destra e a sinistra, approfitto per respirare, inspiro col naso, espiro con la bocca, esercizio successivo, pulso mezzo squat più 3 slanci laterali, 3, 2, 1, 3 pulse su mezzo squat più 3 aperture laterali, solo sulla gamba destra, ancora, 3 pulse, aperture laterali, 3 pulse su mezzo squat e 3 aperture laterali, respiro, separo bene i due movimenti, testa dritta, attiviamo gambe e glutei, ancora 10 secondi e passiamo lo step touch, 1, 2, 3, apertura laterali, vai, 3, 2, 1, cambio, step touch, respiro, ripartiamo con la camminata laterale su mezzo squat, ancora, 5, 4, 3, 2, 1, cambio, camminata laterale su mezzo squat, attivo un mezzo squat, su una camminata laterale, faccio lavorare le braccia, sincronizzo, movimento gambe e braccia, vai, ancora 20 secondi, attiviamo gambe, glutei, testa dritta, respiro, vamos, ancora, 2 passi laterali su mezzo squat, 2 passi laterali su mezzo squat, a destra e a sinistra, esercizio successivo, pulse su mezzo squat, più 3 slanci laterali, andiamo a lavorare dall'altra parte, vai, 3 pulse su mezzo squat e 3 aperture laterali, ora solo con la gamba sinistra, controllo bene il movimento, scendo 3 pulse, mezzo squat, salgo, 3 aperture laterali, ancora, 1, 2, 3, salgo, 1, 2, 3, ancora, 1, 2, 3, 1, 2, 3, esercizio successivo, tocco gomito ginocchio alternato, 3, 2, 1, cambio, tocco gomito ginocchio, prima a destra e poi a sinistra, apri la gamba lateralmente, vado a toccare gomito ginocchio dello stesso lato, 3, 2, 1, isometria su squat, scendo, apro le punte, testa dritta, ginocchio in linea con il gluteo, ancora 5, 4, 3, 2, 1, squat, più ginocchio al petto, scendo e salgo col ginocchio, squat, ginocchio al petto, squat, ginocchio al petto, attiviamo al massimo gambe e glutei, devono bruciare, friggere, vamos, 3, 2, 1, corsettina sul posto, scarico, recupero, non ci fermiamo, manteniamo su anche il ritmo, respiro, ci prepariamo ancora per l'isometria su squat, massimo focus su gambe e glutei, 3, 2, 1, allargo le punte, scendo, mantengo l'isometria, respiro, gluteo in linea col ginocchio, ancora qualche secondo, 3, 2, 1, squat più a fondo indietro, vai, scendo in squat completo, a fondo indietro, squat completo, a fondo indietro, alterno la fonda indietro, gamba destra e sinistra, utilizzo le braccia per migliorare il mio equilibrio, ancora 3, 2, 1, corsetta sul posto, massima attivazione gambe e glutei, corsettina sul posto, respiro, ritorniamo con l'isometria su squat, tra 5, 4, 3, 2, 1, vai, allargo le punte, scendo in squat completo, gluteo in linea col ginocchio, respiro, piedi bene appoggiati a terra, focus gambe e glutei, 3, 2, 1, a fondo indietro, isometria, 3 secondi, a fondo indietro, isometria, salgo, a fondo indietro, isometria, salgo, utilizzo le braccia per migliorare l'equilibrio, il ginocchio sfiora il pavimento senza toccare, ancora 3, 2, 1, corsa sul posto, corsettina sul posto, respiro, sciogo un po' il lavoro sulla parte bassa, ripartiamo con il salto sforbiciato, bruciamo calorie, 5, 4, 3, 2, 1, vamos, salto sforbiciato, sincronizzo bene il movimento, braccia e gambe, respirazione, testa dritta, vai, mantengo il ritmo, esercizio successivo, molleggio su squat, ancora glutei, vamos, 3, 2, 1, molleggio su squat, scendo, gluteo in linea col ginocchio, piccolo molleggio, a spingere, ad attivare glutei e gambe, tonifichiamo e rassodiamo, esercizio successivo, calciata ai glutei, 5, 4, 3, 2, 1, cambio, calciata ai glutei, talloni salgono ai glutei, respiro, sciogo un pochino il lavoro, ripartiamo con la spinta ad una gamba, 3, 2, 1, mezzo squat e apri lateralmente, attiviamo solo la gamba destra, respiro, mezzo squat, apri lateralmente, mezzo squat, apri lateralmente, ancora 6, 5, 4, 3, 2, 1, squat più slancio laterale, vai, ora un bello squat e slancio gamba tesa, salgo, slancio laterale gamba tesa, squat, slancio laterale gamba tesa, sempre la destra, massima attivazione gambe e glutei, ancora 3, 2, 1, step touch più ginocchio su, vado con lo step touch, skip destro, step touch sinistro, skip destro, step touch sinistro, guarda bene il video, sincronizza il movimento, cambiamo in spinta ad una gamba, mezzo squat e apri lateralmente, lavoriamo sulla sinistra in questo momento, mezzo squat e apri lateralmente, solo gamba sinistra, respiro, faccio lavorare anche le braccia, 5, 4, 3, 2, 1, squat più slancio laterale della gamba tesa, sempre gamba sinistra, squat e slancio laterale, mantengo la gamba tesa, lavoriamo sempre sulla sinistra, vai, scendo in squat, salgo, gamba tesa, 3, 2, 1, step touch più ginocchio su, skip sinistro, step touch destro, separa bene i due movimenti, skip sinistro, step touch destro, vai, pam, ancora, pam, 3, 2, 1, recupero attivo, respiro, 10 secondi, ripartiamo con squat più a fondo indietro, attiviamo gambe e glute in questo super workout, 3, 2, 1, vamos, squat a fondo indietro, squat a fondo indietro, a fondo indietro alternato, gamba destra e sinistra, ginocchio sfiora il pavimento, massima attivazione delle gambe e glutei, squat pieno, 5, 4, 3, 2, 1, e cambio, corsa sul posto, respiro, ripartiamo con squat più a fondo indietro, 3, 2, 1, vai, ancora, squat a fondo indietro, squat a fondo indietro, bruciamo calorie, tonifichiamo, rassodiamo e vamos, 5, 4, 3, 2, 1, corsa sul posto, approfitto per respirare, sciolgo un po' il lavoro sulla parte bassa, ripartiamo con a fondo laterale più a fondo indietro, 5, 4, 3, 2, 1, a fondo laterale a destra e indietro con l'altra gamba, sincronizzo bene il movimento, guarda bene il video, laterale con la gamba destra, indietro con la gamba sinistra, vai, a fondo laterale destro e a fondo indietro con l'altra gamba, respiro, ancora, 5, 4, 3, 2, 1, corsa sul posto, respiro, sciolgo un pochino, ripartiamo con a fondo laterale più a fondo indietro, lavoriamo sull'altra gamba, quindi dall'altra parte, 3, 2, 1, a fondo laterale sinistro e indietro con l'altra gamba, laterale con la gamba sinistra e indietro con la gamba destra, separa bene i due movimenti, laterale con la gamba sinistra, indietro con la gamba destra, ancora, laterale con la gamba sinistra, indietro con la gamba destra, esercizio successivo, camminata laterale più ginocchio su, 3, 2, 1, vai, camminata laterale e ginocchio su, camminata laterale e ginocchio su, una camminata laterale a destra e a sinistra e salgo col ginocchio, alterno ginocchio destro e ginocchio sinistro, ci prepariamo all'isometria su squat, 3, 2, 1, allargo le punte, scendo, gluteo in linea con il ginocchio, uno squat completo in isometria per attivare le fibre muscolari al massimo, focus glutei, 5, 4, 3, 2, 1 e parto con lo squat, talloni ben appoggiati a terra, il ginocchio segue la linea della gamba, mi raccomando la tecnica, 10 secondi attiviamo ancora gambe e glutei, 5, 4, 3, 2, 1, ok, recupero attivo, scarica poi il lavoro, ripartiamo con squat sumo più tocco terra, vamos, 3, 2, 1, squat sumo, poi tocco la terra, schiena dritta sia in sumo squat sia quando tocchi terra, ginocchia in apertura, 5, 4, 3, 2, 1, skip più slancio alternato, vai, cambio, skip e slancio alternato, salgo e skip, 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 slancio, slancio, respira, skip, skip, slancio, slancio, esercizio successivo, squat più gomito ginocchio incrociato, 3, 2, 1, vai, squat più gomito ginocchio incrociato, scendo bene in squat, salgo, gomito ginocchio incrociato, attiviamo ancora gambe, glutei e addome, 3, 2, 1, recupero attivo, ottimo lavoro, respirazione, sciogliamo un pochino, 5, 4, 3, 2, 1, vai, step touch, non ti fermare, resisti fino alla fine, non farti aggredire da questo workout, ma aggrediscilo tu, vamos, 10 secondi, ripartiamo con step touch più ginocchio su, 5, 4, 3, 2, 1, step touch più ginocchio su, vai, uno step touch e un ginocchio su, uno step touch e un ginocchio su, respiro, testa dritta, esercizio successivo, step touch più ginocchio su dall'altra parte, quindi cambiamo la gamba, 3, 2, 1, cambio, step touch e ginocchio su, step touch e ginocchio su, respiro, testa dritta, una gamba e ginocchio su, l'altra gamba step touch, esercizio successivo, skip più calciata, 5, 4, 3, 2, 1, cambio, skip più calciata, vai con una calciata e uno skip, una calciata e uno skip, testa dritta, sincronizza il movimento, ci prepariamo a fare lo stesso esercizio sull'altra gamba, 5, 4, 3, 2, 1, cambio, skip più calciata e cambiamo gamba, skip calciata, vai, skip calciata, skip calciata, respiro, esercizio successivo, to touch più sollevamento delle braccia, tra 3, 2, 1, tocco le punte dei piedi a terra, mentre sollevo le braccia, pam, 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 respiro, un bel sollevamento delle braccia, tocco le punte dei piedi a terra, mentre sollevo le braccia, ancora 3, 2, 1, squat più slancio laterale su una gamba, solo la sinistra, squat, salgo e slancio la sinistra, gamba tesa, testa dritta, utilizzo le braccia nel movimento, squat completo, salgo e gamba sinistra che sale lateralmente, 3, 2, 1, corsa sul posto, respiro, manteniamo il ritmo, non ci fermiamo, ripartiamo con squat più a fondo laterale, dall'altra parte, andiamo a lavorare sull'altra gamba, 3, 2, 1, squat, torno in a fondo laterale da un lato, squat e a fondo laterale dall'altro, vai, squat, torno e a fondo laterale da un lato, squat, torno e a fondo laterale dall'altro, respiro, esercizio successivo, corsa sul posto, 3, 2, 1, corsa sul posto, cerca sempre di mantenere il ritmo, non ti fermare, mi raccomando la respirazione naso e bocca per non perdere fiato, ancora 3, 2, 1, squat più slancio laterale su una gamba, solo la gamba destra, lavoriamo sull'altra gamba, vai, squat, salgo, slancio della gamba destra, la gamba è tesa, movimento pulito, scendo, salgo e slancio, ancora 5, 4, 3, 2, 1, recupero attivo, approfittiamo per prendere il nostro tappetino, respiriamo, recuperiamo, avviciniamo anche le nostre cavigliere, scendiamo a terra e partiamo con ponte, gamba in appoggio, 5, 4, 3, 2, 1, caviglia destra appoggiata sul ginocchio, salgo e scendo con il bacino, controllo il movimento, la testa è dritta, le mani a terra, 5, 4, 3, 2, 1, stessa gamba, ora rimani in appoggio solo sul tallone, sali e scendi, lavoriamo sulla stessa gamba e rimaniamo in appoggio solo sul tallone, 3, 2, 1, recupero attivo, respiro, ci giriamo, slancio glutei up and down, 5, 4, 3, 2, 1, slancio la gamba sinistra, sali con la destra, slanciando la sinistra, slancio la gamba sinistra, una volta in quadrupedia e una volta in posizione a V rovesciata, separa bene il movimento, respira, 5, 4, 3, 2, 1, dall'altra parte, slancio la gamba destra, sali con la sinistra, slanciando la destra, vai ancora, slanciando la gamba destra indietro, una volta in quadrupedia e una volta in posizione a V rovesciata, 3, 2, 1, recupero attivo, ci giriamo ancora, schiena ben aderente a terra, ripartiamo con il ponte gamba in appoggio, 5, 4, 3, 2, 1, caviglia sinistra appoggiata sul ginocchio, salgo e scendo con il bacino, l'esercizio successivo è ponte ad una gamba in appoggio sul tallone, 3, 2, 1, stessa gamba, rimani in appoggio solo sul tallone, sali e scendi, respira, ancora 5, 4, 3, 2, 1, recupero attivo, respiro, indossiamo le nostre amate cavigliere, 10 secondi e ripartiamo con apertura laterale della gamba, 5, 4, 3, 2, 1, lavoriamo solo sulla gamba sinistra, manteniamo la gamba sinistra a 90 gradi e apriamo lateralmente, 5, 4, 3, 2, 1, apertura laterale della gamba in isometria, aggiungiamo l'isometria, resti in isometria qualche secondo e poi scendo, salgo, blocco isometria e scendo, 3, 2, 1, slancio glutei, movimento laterale della gamba, sempre la gamba sinistra, il movimento laterale a gamba tesa, mantengo la posizione della quadrupedia, braccio in linea con le spalle, 3, 2, 1, recupero attivo, ora ripetiamo tutto dall'altro lato, partiamo con apertura laterale della gamba, 3, 2, 1, vai, gamba a 90 gradi, solo la gamba destra, apertura laterale, ancora qualche secondo, vai, 5, 4, 3, 2, 1, aggiungiamo l'isometria, vai, sempre apertura laterale, salgo isometria e torno, 5, 4, 3, 2, 1, stessa gamba, movimento laterale a gamba tesa, addome contratto, movimento laterale, respiro, testa dritta, braccio in linea con le spalle, 3, 2, 1, recupero attivo, esercizio successivo, interno coscia da terra, solo su una gamba, 3, 2, 1, vamos, piedi a martello, salgo e scendo, mantengo la gamba tesa, respiro, attiviamo l'interno coscia, cerco di non toccare a terra, la cavigliere ci dà una resistenza, ancora lavoro per l'interno coscia, 5, 4, 3, 2, 1, recupero attivo, rimani in posizione, lavoriamo sempre sullo stesso lato, interno coscia da terra, sempre sulla stessa gamba, 5, 4, 3, 2, 1, e riparto, salgo e scendo, il movimento è controllato, cerco di non toccare terra, piedi a martello, gamba tesa, respiro, attiviamo l'interno coscia, ancora 10 secondi, resisti fino alla fine, 5, 4, 3, 2, 1, recupero, respiro, interno coscia da terra, sempre su una gamba, andiamo a lavorare dall'altra parte, ci giriamo, 3, 2, 1, sempre piedi a martello, salgo e scendo lentamente, senza toccare terra, la gamba è tesa, attiviamo l'interno coscia, 20 secondi, mantieni sempre la respirazione, resisti ancora solo 10 secondi, non ti fermare, 5, 4, 3, 2, 1, recupero attivo, rimaniamo in posizione per ripetere ancora l'esercizio, 3, 2, 1, interno coscia da terra, mantengo il piede a martello, gamba tesa, respiro, salgo e scendo, cerco di non toccare terra, attiviamo l'interno coscia, ancora 15 secondi, non ti fermare, controlla bene il movimento, ancora qualche secondo, 5, 4, 3, 2, 1, recupero attivo, respiro, ottimo lavoro, possiamo togliere le nostre super cavigliere, ripartiamo con lo stretching ileopsoas tra 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1, una gamba avanti, il ginocchio posteriore appoggia a terra, resta in posizione con le mani appoggiate ai lati dei piedi, non forzare il movimento, mantieni lo stretching e respira, 3, 2, 1, stretching del gluteo, stessa gamba avanti appoggiata a terra, se riesco scendo appoggiando i gomiti a terra e anche alla fronte, mantengo la posizione e respiro, 3, 2, 1, recupero attivo, ancora stretching ileopsoas, 3, 2, 1, ora con l'altra gamba in avanti, il ginocchio posteriore appoggia a terra, resta in posizione con le mani appoggiate ai lati dei piedi, respira e mantieni la posizione, 3, 2, 1, stretching del gluteo, stessa gamba avanti appoggiata a terra, se riesco scendo appoggiando i gomiti a terra e anche alla fronte, mantieni la posizione e respira, 3, 2, 1, recupero attivo, respiro, ci prepariamo alla divaricata frontale, ci alziamo in piedi piano piano, allarghiamo le gambe, 3, 2, 1, divaricata frontale, scendo piano piano in avanti, gambe divaricate, rilasso la testa, respiro e mantengo la posizione di stretching, 3, 2, 1, e risalgo, il tuo super allenamento è finito, ci vediamo al prossimo allenamento, vamos! Ciao!